Un'esplosione in un cantiere su un'autostrada in Romania ha provocato la morte di quattro operai e il ferimento di altri cinque. La deflagrazione è avvenuta intorno a luna di notte vicino alla città orientale di Calimanesti. Secondo i media locali, gli operatori avrebbero colpito una conduttura del gas con un'escavatrice, innescando l'esplosione e poi l'incendio. Un'esplosione in un'esplosione.